Mattia Cassi, dallo sci alla bici il passo è breve, ma quali sono le differenze sostanziali? Sicuramente il peso, un bel 92 kg non giova su questi passi, però bellissima giornata, bellissimo panorama, vicino alle nostre piste da sci, cosa chiederei più? Ti alleni spesso in bici da corsa durante la stagione per affrontare anche la tua attività? Sì, è una tipologia di allenamento che facciamo spesso, però più in piano dai. Partecipare alla maratona vuole godersi una giornata nella natura, una giornata nella natura con uno sport diverso? La maratona è qualcosa di incredibile, sotto queste montagne è veramente bello, è un'emozione, infatti sono già tre anni che la faccio e spero di continuare a farla. Grazie. 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 Grazie.